Anticipazioni. Endless love. Salì finalmente svela il mistero dietro all'incendio della sua barca. Ozan è il colpevole. Nian e Kemal si trovano sul luogo del crimine e fanno una scoperta che cambierà tutto. Kemal, convinto che Nian non abbia mentito, è determinato a chiarire ogni dettaglio di questa complicata situazione. Deciso a ottenere delle risposte, si confida con l'amata e le chiede spiegazioni. Nian, sentendosi accerchiata, confessa di aver sposato Emir per proteggere Ozan, ma si rifiuta di fornire ulteriori dettagli, avvertendo Kemal che sarebbe costretta a mentire se le fossero poste altre domande. Pur sollevato per la sincerità di Nian, Kemal si sente anche preoccupato per le implicazioni della situazione. Decide quindi di condividere il suo dilemma con Salih e Leila, cercando sostegno e consiglio su come procedere. Nian e Banu si ritrovano di nuovo faccia a faccia, ma questa volta non per discutere di Emir. Entrambe hanno ricevuto le fotografie della sera, in cui è avvenuto l'omicidio di cui Ozan è stato accusato. La pittrice, preoccupata per il fratello, si affretta ad andare da Onder per affrontare l'argomento delicato con il padre. Qui, Onder rivela a Nian, che sia lui che Vildan erano già a conoscenza del fatto che quella sera fatale, ci fosse anche un'altra ragazza. Nian è sbigottita, quando Emir sussurra qualcosa all'orecchio di Ozan, una rivelazione che presto avrà conseguenze sconcertanti. L'imprenditore avverte con sicurezza, il cognato che Kemal è tornato per vendicarsi di Nian, e che la sua rabbia si riverserà anche su coloro che le sono vicini. Ozan, agitato, affronta la sorella accusandola di mettere tutti in pericolo per la sua vicinanza con Lex. Nel frattempo, si preparano i festeggiamenti per il fidanzamento di Zainep. Tuttavia, nessuno sa che lei ha accettato l'invito di Emir. Quest'ultimo è determinato a portarla dalla sua parte, e cerca di conquistarla. Per impressionarla, le propone di andare in elicottero, al concerto del suo cantante preferito, che si terrà fuori città. Zainep accetta, incapace di resistere. Dopo che Nian ha confidato a Kemal di aver sposato Emir solo per proteggere Ozan, Kemal decide di mettersi in azione per cercare prove che possano incastrare il suo rivale. Nel frattempo, Tariq diventa sempre più impaziente nell'attesa di firmare il contratto per il suo nuovo negozio, ma rimane sconvolto nel scoprire che il proprietario ha cambiato idea. La delusione di Tariq di fronte a questa notizia è evidente, e potrebbe avere conseguenze impreviste. Nian è angosciata per il destino di Ozan, e cerca un confronto con Kemal, sperando di trovare conforto, e una soluzione alla situazione delicata. Kemal la rassicura, assicurandole che né lui né Salì hanno intenzione di denunciare Ozan, nonostante ci sia un video compromettente che lo incolpa per l'incendio della barca. Decidono entrambi di non prendere provvedimenti contro di lui. Tuttavia, Kemal, desideroso di comprendere appieno la situazione, chiede a Nian di fornirgli ulteriori spiegazioni riguardo a ciò che è accaduto 5 anni prima, e vuole capire da cosa stesse e stia tuttora proteggendo Ozan. Nian e Kemal stanno discutendo a casa di quest'ultimo. In un momento improvviso, appare Azu desiderosa di brindare con Kemal per l'acquisto della casa. Tuttavia, la pittrice preferisce evitare di farsi vedere, e si defila rapidamente, nascondendosi prima in camera, e poi scappando via alla prima occasione. Nel frattempo, Azu, eccedendo con l'alcol, diventa ubriaca, e tenta di sedurre l'ingegnere, il quale però respinge le sue avanze sconfermezza. Successivamente, Nian e Onder decidono di incontrarsi sul luogo dell'omicidio attribuito ad Ozan, mentre Emir chiama Tufan per istruirlo su un misterioso piano per incastrare Tariq. In seguito, Tariq viene chiamato proprio dal braccio destro dell'imprenditore, con conseguenze ancora ignote. Emir si assicura che la stampa sia informata del suo invito a cena per Zainep, anche se lei non si presenterà. Nel frattempo, Salih incontra Zainep per caso, e la riaccompagna a casa, creando un momento di intimità tra i due. Intanto Azu inganna Nian facendole credere di aver passato la notte con Kemal, mentre racconta a lui di aver detto la verità alla pittrice. Successivamente, Nian si reca sul luogo del delitto compiuto da Ozan, ma trova ad attenderla Kemal, il quale spera che le riveli la verità, su quanto accaduto fai anni prima. Nel frattempo, Tariq, convinto di firmare il contratto per il nuovo negozio, viene invece prelevato da uno dei tirapiedi di Tufan, che investe Onder. Tariq compie un gesto sabotando il piano diabolico di Emir per prestare soccorso all'uomo ferito. Emir, avvertito della situazione, chiama subito Nihan per informarla che Onder è in ospedale, dopo essere stato coinvolto in un incidente. Mentre Tariq mente alla polizia per proteggere Emir, Kemal accompagna l'amata dal padre. Infine, l'ingegnere subisce una misteriosa aggressione lasciando molti interrogativi irrisolti. Nihan è preoccupata per le condizioni di suo padre, ma si sente sollevata sapendo che, seppur ancora in ospedale, sta migliorando. Tuttavia, la giovane è tormentata dal sospetto che l'incidente non sia stato un semplice incidente, ma un tentativo di omicidio. I suoi sospetti si concentrano su Emir, soprattutto sapendo che Tariq era anche a bordo dell'auto. Nihan affronta direttamente Emir, chiedendogli se Cii sia coinvolto, ma lui nega categoricamente. Nel frattempo Emir offre a Tariq un'opportunità allettante di diventare il suo assistente. Tuttavia, Tariq sembra esitare di fronte alla proposta. Nel frattempo, Azu si avvicina sempre di più alla famiglia di Kemal, trovando un senso di appartenenza e rivelando ad Salih di provare sentimenti sinceri per Kemal. Nel frattempo, Nihan viene informata dalla polizia che l'uomo responsabile dell'incidente è stato arrestato e ha confessato la colpa. Nel frattempo, Emir invita Zaynep a fare un giro in barca e lei accetta. Durante l'escursione, Emir tenta di baciarla e Zaynep, non resistendo, cede. Il capitano, complice di Emir, scatta una foto del momento. Alla fine della giornata, Emir chiede a Zaynep se sta frequentando qualcuno e dalla sua risposta vaga comprende di aver colpito nel segno. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti Voglio il Continuo e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima! Grazie! Grazie!